Salta, ti voglio? bene, 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 bene ben veloce bene, bene, bene coi infatti, c'è il piano infatti, c'è il filo di riga con la difesa probabilmente si è allargata con la pista di fuori largo forza ancora vai, fatte bene tieni ok Ok? Scusa la braccia Togli il spiro un po' avanti Scusa la braccia Se lo scarichi bene le braccia Non posso fare meglio la contraste Perché resti un po' avanti Vai! Ricorso al contrario Stiamo venendo anche il cuore Mancando la parola Dai! No! Poi il primo passo lungo Gli ultimi due Che sulleve il ginocchio Schiacci i sacchi e poi salto Quindi il primo di fare la bicicletta Gli ultimi due sono così Così Vai! Vai! Ancora Vai! 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 Grazie. Diamo. Se ne atingi, po. Aspetta. Se il tempo è giusto, non è passato a rinforzare. 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 Una volta, su tre li fai destra o segresti destra. Non so, non so. Agì! Arino. Non è passato a rinforzare. 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 Non è passo già. I fai destra iniz травma. Non è passato a rinforzare. Per la mamma di te la palla. Andiamo! Questo è il problema solito. Se lo mandi dito nelle braccia non c'è avuto la situazione verticale. Non devi sottotitare, se la palla è affidata. L'altro l'altro mi riesco. C'è il ruizzo. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. Non esiste. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. Segui il ruizzo. E poi il braccio è andato. E sotto la Natura. Certo. Segui il ruizzo. come se prendessero sciogliere tenete il cielo a fuori per arrivare tre passi di rinforza e poi un gesto attacco fermo, fare così fai questo e poi mi sono benissimo e poi mi sono benissimo così però voglio che le braccia quando lo fassero qua e poi attecisto le lanci in alto vai si senza saltare a lungo perché i pallori non sono carini mi metto le forze e mi cazzo in alto basta mi metto le forze e mi cazzo in alto mi metto le forze basta mi metto le forze questo pallone questo pallone noi passi non puoi fare non tre passi se vuoi attaccare fai non vai dritto e poi c'è la pallone non mi vai in terra non è si e poi la proposta giusto ma la mano è floscia della vita e poi se l'ha fatta anche molto bene Grazie. Grazie.